bimbolandia bimbolandia il canale preferito dai bambini clicca sulla campanella per ricevere le notifiche del nostro canale la sirenetta c'era una volta una sirenetta che viveva in fondo al mare assieme alle sue 5 sorelle maggiori e a suo padre quando la sirenetta divenne quindicenne ebbe il permesso come da tradizione di nuotare fino alla superficie e in quell'occasione vide un principe bellissimo su una nave di cui si innamorò sin dal primo istante per poterlo conquistare desiderò diventare umana e per questo andò a cercare aiuto dalla strega del mare quest'ultima le diede una pozione capace di tramutarla in donna a patto però che lei rinunciasse per sempre alla sua voce la più bella del mondo e all'essere una sirena dopo aver accettato queste condizioni la sirenetta danzando con le sue nuove gambe riuscì a far innamorare il principe il quale tuttavia era promesso in sposo a un'altra donna a nozze avvenute quindi le sorelle della sirenetta le portarono un coltello che avevano ricevuto dalla strega del mare in cambio dei loro capelli la giovane sirena lo avrebbe dovuto usare per sacrificare il principe e riuscire così a ritornare nel mondo marino la sirenetta tuttavia per amore decise di rinunciare a questa offerta e di conseguenza alla sua vita tramutandosi in spuma di mare se il video ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici e clicca su mi piace iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sui nostri contenuti grazie grazie